Mancano pochi giorni a San Valentino. Tra cuori rossi e cioccolatini, i fidanzati cercheranno di ritagliarsi dei momenti romantici. Ma ai single chi ci pensa? Come passeranno queste giornate dedicate all'amore? Secondo una statistica del sito speedvacanze.it, Tour Operator, che ha inventato la formula dei viaggi di gruppo, il 67% dei single deciderà di partire in vacanza. Se da un lato la stragrande maggioranza degli innamorati nel giorno di San Valentino opterà per cene a lume di candela o per una mini vacanza in qualche destinazione di tendenza italiana quale Roma, Venezia, Napoli, Verona e Milano, per i single invece si prevedono mette fuori dal confine italiano, come Barcellona, Costa Azzurra, Mallorca e l'Aurora Boreale in Islanda. Il giorno degli innamorati è sempre più amato dai single, spiega Giuseppe Gambardella, ideatore di speedvacanze.it e speeddate.it, portale quest'ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e nuovi potenziali partner. San Valentino non è una festa creata per tormentare chi è single, ma al contrario un'occasione per scatenarsi alla ricerca di qualcuno con cui condividere un momento speciale, meglio se durante una vacanza.